Isace è un gruppo finanziario che assicura il credito alle medie e grandi imprese e facendo anche numeri da capogiro. In Sicilia ha già sostenuto 500 imprese per 1 miliardo e 500 milioni di euro. Sicuramente rappresenta oggi uno strumento importante anche perché non si limita soltanto alle grandi e medie imprese ma anche alle piccole imprese. Ovviamente bisogna avere i numeri per poter accedere alle garanzie che loro mettono a disposizione ma devo dire che svolgono anche un lavoro di consulenza per le imprese che si vogliono internazionalizzare. Ecco perché l'incontro di oggi come a voi è noto Confindustria si sta spendendo molto nel cercare di supportare le imprese del nostro sistema ad internazionalizzarsi e a conquistare nuovi mercati. D'altra parte nel nostro territorio purtroppo il mercato non è vivace come noi vorremmo quindi l'unico sistema per poter dare uno sfogo, uno sbocco alle imprese siciliane è quello di accedere ai mercati stranieri. Ed è quello che stiamo cercando di fare spingendo principalmente sull'agroalimentare, sul turismo, sull'energia, su tutto quello dove noi riteniamo di avere i numeri per poter competere con il resto dei competitors. Vendere nei mercati esteri ovviamente richiede tutta una serie di prerogative che chi non ce le ha si deve mettere in condizione di farlo. 500 imprese siciliane sono state sostenute da Sace che ha allargito un miliardo, 500 milioni. Ecco ci spieghi esattamente come funziona? Il discorso che noi cerchiamo di fare adesso è di fornire un'offerta integrata sul supporto alle aziende che si internazionalizzano quindi dalle garanzie agli esportatori al sistema bancario anche all'erogazione diretta di liquidità attraverso lo strumento del factoring che è uno strumento che noi su cui puntiamo molto e che vediamo crescere nel futuro. Le aziende si rivolgono direttamente a voi oppure magari preferiscono tramite Confindustria quindi le aziende associate che poi si rivolgono a voi? In generale l'esigenza delle aziende è di avere un referente unico che poi riesce a smistare le proprie richieste all'interno del gruppo Sace. Quindi noi stiamo mettendo sul territorio delle persone e quindi da qui la potenziale apertura di un ufficio in Sicilia proprio per avere una persona dedicata alle aziende che può essere il punto di riferimento delle aziende e quindi questa persona poi sarà l'account che le aziende avranno a disposizione. Grazie a tutti.